Io sono nata nel 55 e quindi le bambine allora erano molto limitate, il genere femminile era pieno di vincoli, non fare questo, non fare quell'altro, questo non puoi farlo, questo lo fanno i maschi e io non ne volevo avere, non ne volevo avere e forse questo non voglia di vincolo, questa non voglia di vincolo è stato inglobato anche in non avere il vincolo massimo che ha un figlio, io ho avuto amiche, hanno avuto figli molto presto e la loro vita è cambiata in maniera radicale, molte persone della mia vita hanno, anzi quasi tutte hanno fatto dei figli, hanno avuto compagni o matrimoni e io ho visto quanto la loro vita cambiava, tanto.